Questa è l'intervista rilasciata da Crescenzi ad Enzo Tamborra, Davide che idea ti sei fatto? Non è emerso poi tantissimo? No, non è emerso molto, anche se io credo che parlare con la stampa, faccio il caso di Crescenzi, però di tutti i giocatori sia sempre un'occasione per avvicinarsi alla gente, per costruire un rapporto con la città che ti ospita per uno o due anni restano sempre sulla difensiva, frasi abbastanza scontate un chiarimento su un episodio non avrebbe fatto male a nessuno, però alla fine rispetto la posizione di Crescenzi secondo me è anche un buon giocatore, però ripeto resta sempre quel pizzico di amarezza di porsi a volte in un modo più aperto non diverso, ma più aperto per cercare di creare un rapporto anche più sinergico con la città questo piatto resterà avvolto nel mistero ancora, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Buonasera, sono Anna Dabbari Ciao Anna Senti, vorrei dire una cosa, dare molta fiducia a Bellomo Galano, Mister Torrente e la società, loro sono i due promettenti Grazie, grazie Anna per il tuo intervento, sono in tanti a voler vedere soprattutto Nicola Bellomo in campo Davide, io peraltro ho visto sabato scorso con la primavera Galano, però il giocatore è ancora in evidente ritardo di condizione ovviamente ha avuto problemi di pubalgia, quindi bisognerà attenderlo, però Bellomo almeno in queste prime partite non è stato tanto considerato da Torrente, lo ha spedito spesso in tribuna, anche se ultimamente in allenamento sta comunque incominciando anche a provarlo tra i titolari Sì, Bellomo è un giocatore che ha delle caratteristiche tecniche indiscutibili, è un bel piede, ha fantasia, ha anche passo io non so se possa ricoprire la posizione tra i tre di centrocampo dove bisogna anche faticare parecchio però se è stato provato Bogliasino tra i tre davanti, forse un'occasione lui in quel ruolo potrebbe anche averla ad ogni modo secondo me un giocatore tornerà utile, il campionato di Serie B è lungo, quindi non è detto che debbano giocare tutti in questo momento anche su Galano ero curioso perché è un giocatore che ha fantasia, ha numeri, però con la pubalgia purtroppo è sempre un po' difficile mettersi al passo rapidamente Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao, sono Teo, un saluto a entrambi Ciao Teo Niente, vorrei soltanto dire che tutto sommato il momento attuale è il momento che la situazione che un po' tutto l'ambiente si merita insomma a tutti i livelli, a livello di società che è una società ormai fantasma a livello di tifoseria che crea e distrugge come se niente fosse e se vogliamo anche a livello giornalistico dove si fanno a volte delle considerazioni un po' superficiali Niente, mi auguro che a fronte di questo campionato ci possa portare almeno a una serena salvezza Ciao Grazie, grazie per il tuo intervento Vuoi replicare Davide? Sì, no, no, non per il fatto di no La parte che va tutelata sempre, secondo me, non siamo neanche noi perché noi magari abbiamo delle colpe è anche giusto prendersene quando si sbaglia qualcosa Però i tifosi, ragazzi, ma perché bisogna dire Bari è una tifoseria mediocre Cioè, Bari è una città che nel momento in cui ha avuto poco ha dato tanto Rivedetevi l'anno di... io non voglio fare il presuntuoso però rivedetevi l'anno di Ventura, il primo anno di Ventura in Serie A Non pensate solo ai pienoni con Inter, Juventus e Milan che si fanno comunque Però vedete i 30.000 con la Lazio, i 50.000 con il Napoli, i 55.000 con la Roma le trasferte con una popolazione incredibile insieme alla squadra Cioè, cosa deve fare di più Bari? Per un campionato che poi alla fine dove ci ha portato ad avere una tranquilla salvezza e basta perché alla fine quello è stato, non siamo andati né in Coppa UEFA né in Coppa dei Campioni è stato un campionato divertente che ci ha fatto arrivare al decimo posto e Bari era letteralmente impazzita, l'anno dopo ha fatto 14.000 abbonamenti Io veramente con i tifosi del Bari proprio non riesco a prendermela Anche perché continuano a vedere sconfitte in Serie Vedono sconfitte da un anno, quest'anno sono stati fatti 4.000 abbonamenti per vedere chi alla fine Diciamoci la verità Cioè, che cosa si vuole? Il San Nicola pieno con una squadra che è stata costruita però per virtù dello Spirito Santo Tra tante difficoltà Per favore cerchiamo di rispettare i tifosi del Bari Perché io non credo che poi in Italia di tifoserie come quelle del Bari ce ne siano chissà quante Riguardo a noi è un altro fatto Noi avremmo dovuto essere più compatti, più uniti, più pungenti per tenerci stretta la Serie A Adesso è un momento difficile anche per noi Però effettivamente l'anno scorso degli errori evidentemente li abbiamo fatti Abbiamo fatto un po' il gioco di ventura Sì, sì, probabilmente abbiamo dato un po' troppo credito dall'anno precedente Abbiamo un ascoltatore in linea, sì pronto, scusaci per l'attesa, ciao Senti, io voglio dire solo una cosa Come mai tutti i comandatori autorevoli della Serie B Anche i programmi Rai e i emittenti nazionali Poi anche alcuni allenatori Sì Tipo lo stesso Dal Canto del Padova Ha detto che le potenzialità del Bari sono da playoff Allora adesso magari abbiamo perso un paio di partite Però noi barissiamo così O ci esaltiamo o ci deprimiamo Allora dobbiamo capire che la squadra Se lo dicono questi comandatori che sono abbastanza autorevoli Cioè perché dobbiamo deprimere adesso la squadra? Io penso che questi Una volta che hanno la consapevolezza Magari vincendo un paio di partite Un po' di autostima E con l'amalgama E con diciamo Prendere un po' di fiato Di fiducia Stato chiaro Io presumo che noi possiamo farli playoff Grazie Però chiaramente Noi non dobbiamo darlo molto addosso Se no questi sono Ci sono i ragazzi che hanno bisogno Perché io penso che qualcuno si sbloccherà E andremo avanti bene Grazie Grazie per il tuo intervento Beh ovviamente bisogna dare fiducia Ancora a questi ragazzi a Torrente Anche perché questa è una squadra Che è stata completata in pratica L'ultimo giorno L'ultimo giorno di mercato Però francamente Un'abitalmente mediocre Che non puntare playoff Mi sembra davvero Davvero un'assurdità Dobbiamo fermarci Pubblicità tra poco con la terza Ed ultima parte del bianco e rosso Di vSport Grazie a tutti Grazie a tutti